Allora praticamente quello che c'è in queste slide sono i passi fondamentali per poter realizzare un sito web a partire dalla progettazione cioè da zero dall'idea di costruire un sito web questi slide vi possono servire sia perché all'orale seguendo questo percorso avete modo di parlare di tante cose e di approfondirle perché chiaramente sono non dico che sono molto superficiali però chiaramente vanno approfonditi gli argomenti specialmente quelli che riguardano la personalizzazione del sito o del database però vi possono servire per una traccia o scritta o per la traccia proprio del colloquio voi potreste esordire dicendo innanzitutto avete pensato di fare un certo sito e ci avete pensato perché quindi qui rientrano gli obiettivi principali del sito nel caso di Andrea Leotta per esempio perché intende pubblicizzare dei prodotti nel caso delle mascherine di scudo ha la stessa cosa vuole sponsorizzare dei prodotti ma c'è uno scopo principale ancora più importante della semplice commercializzazione e le cose importanti negli obiettivi devono essere questi cioè il fatto non solo di pubblicizzare i prodotti però fornire agli utenti finali e dire chi sono nel senso che dovete indicare un target il mio sito è rivolto ai parrucchieri il mio sito è rivolto a tutta la popolazione il mio sito è ridotto a un target per esempio nel caso di un videogioco un target che va magari dai 15 ai 30 anni cioè andare a selezionare il target nel caso in cui sia un sito che gestisca un database bisogna anche al punto 3 fornire un supporto ai dipendenti che ci lavorano ma anche agli utenti che si collegano e ai dipendenti che ci lavorano come? mettendo a loro disposizione manuali sistemazioni continue del sito nel caso di bug e cose del genere utilizzare il sito in modo diversificato a secondo il ruolo che si occupa cioè se sono dei semplici utenti oppure sono degli impiegati dell'azienda che ci lavorano per esempio nel caso di delle mascherine di scuto dovrebbero essere diversificate perché? perché gli utenti magari hanno l'accesso solo per effettuare degli ordini quindi una specie di e-commerce dove c'è un l'illustrazione di una serie di tipologie diverse di mascherine e un carrello per l'acquisto mentre sarebbe il discorso della front end e back end? sì praticamente il front end e il back end esattamente poi addirittura nei siti che pensate possano interagire in zone diverse dall'Italia avere la possibilità di trasformare o di tradurre il sito in lingue differenti e perché ci ho messo 9? non lo so di un mi viene non lo so comunque in lingue diverse a secondi posti in cui bisognerebbe andare forse ci ho messo 9 perché mi sono fatto il conto italiano, inglese, francese, spagnolo, russo di solito sono questo arabo una volta che voi avete stabilito l'obiettivo del sito dovete indicarne lo scopo dice a che cosa serve questo sito cioè il mio obiettivo è non solo vendere le mascherine ma dare la possibilità agli utenti di fare questo dare la possibilità a chi ci lavora per quest'altra cosa lo scopo fondamentale qual è? lo scopo è quello di realizzare un sito che possa essere dinamico oppure statico a secondo delle necessità ora chiaramente un sito web statico non credo che faccia a vostro caso perché la sapete la differenza tra statico e dinamico no? credo sia il fatto che non richiede aggiornamento esatto cioè un sito web statico solitamente è fatto da una home page con delle immagini o delle cose scritte attraverso un menu ti permette la navigazione in altre pagine ma è solamente a livello consultivo quindi è un sito che viene rinnovato raramente per esempio un sito che ti mostra i quadri di un museo e ti fa vedere i quadri però in effetti di dinamico non c'è niente nel senso che non si aggiornano frequentemente le mappe del sito le immagini del sito insomma quello è e quello resta mentre il sito dinamico è quello che solitamente si aggiorna in continuazione e che dà la possibilità di interagire perché è interlacciato con un database quindi credo che il vostro sia il caso del sito dinamico una volta stabilito gli obiettivi e lo scopo quindi sarebbe l'introduzione alla vostra relazione praticamente quali sono le fasi che si attraversano nella realizzazione o nello sviluppo di un database cioè voglio fare questo sito lo voglio fare per questo motivo che cosa devo fare? prima di tutto bisogna fare l'analisi dei bisogni se si ha a che fare con un'azienda che ve lo ha commissionato ipoteticamente dovete parlare con chi vi ha commissionato il sito per sapere quali sono le cose che a lui servono perché vi dovete basare su quello nel caso in cui il sito lo progettiate voi di vostra spontanea iniziativa allora ragionare su quelle che sono le necessità di base per costruire questo sito quindi quali sono i bisogni che bisogna inserire nel sito una volta stabiliti quali sono i bisogni allora bisogna andare a scegliere la tecnologia più adatta per poter soddisfare tutti questi bisogni cioè se voi nell'analisi dei bisogni riscontrate che non c'è bisogno di un database è inutile che andate ad affrontare la tecnologia con un linguaggio di programmazione tipo PHP picchitando non vi serva niente dopodiché si incomincia a fare una stesura provvisoria del sito una mappa dove magari non ci siano grandi cose che piano piano viene raffinata fino a quando sia la versione definitiva del sito e la pubblicazione del sito dopodiché una volta pubblicato il sito non è che è finito il lavoro ma anzi bisogna andare costantemente a monitorare le statistiche e il report che vengono dal sito per vedere per esempio se è visualizzato se è ben pubblicizzato se i clienti hanno riscontrato delle anomalie se sono soddisfatti di questo sito se è facilmente navigabile e così via vi ripeto tutte queste sono premesse che vi possono servire anche se forse è più gestione progetto che altro però informatica, dps, sistemi, gestione progetto si interfacciano uno con l'altro quindi queste sono le fasi attraverso cui dovete passare una volta che avete che sapete quali sono queste fasi e allora bisogna fare il piano di sviluppo che è quello che stava facendo Andrea nelle sue slide nella seconda slide che c'era e come si fa? innanzitutto bisogna andare a cercare attraverso una collaborazione con un utente finale nel vostro caso l'utente finale siete voi stessi per il momento però per esempio nel caso delle mascherine l'utente finale potrebbe essere chi ha intenzione di acquistare le mascherine per cui Scudo potrebbe benissimo far finta nella sua relazione di aver parlato con un numero notevole di persone che possono andare dal farmacista che vuole vendere le mascherine ai tabaccai perché mi pare che ora stanno approvando la cosa che anche i tabaccai possano leggere o al singolo componente di una famiglia al privato che vuole conoscere le mascherine da questi dialoghi da questa analisi sono venute fuori le domande a cui dovrà rispondere il database cioè le famose query tirare fuori dal database quante mascherine ci sono di un determinato tipo oppure di quale tipo dispone la stessa cosa per qua già nel commercio è più semplice fare un discorso del genere nel caso per esempio di Enea potrebbero essere le domande conoscere quali sono tutti i temi di inglese conoscere per esempio la bibliografia di un certo autore oppure che trattano determinati argomenti quindi quando si parla di prodotti è facile poi bene o male le domande sono sempre quelle tirare fuori particolari query dal database e quello sta a voi una volta che voi conoscete quali sono le risposte che vi deve dare il database allora potete iniziare a progettare il database perché la cosa che si è sempre risaputa della programmazione è che pur avendo i dati di input che nel nostro caso è il database prima di sapere come strutturare i dati di input e dati intermedi bisogna sapere qual è il risultato finale che si vuole ottenere soltanto una volta saputo qual è il risultato finale si può progettare bene il dato iniziale quindi questo è essenziale conoscere a quali domande risponderà il nostro database una volta fatto questo aver chiare le domande e quindi le risposte si può progettare il database oppure nel caso in cui voi stiate modificando un database già esistente andare a modificare il database in modo che si adatti a quello che ci serve quindi a questo punto sappiamo quali sono i dati di partenza cosa vogliamo ottenere come dobbiamo trattare questi dati ma a questo punto dobbiamo andare a progettare un'interfaccia grafica che possa soddisfare noi che progettiamo il sito ma soprattutto chi lo deve utilizzare dice allora come lo progettiamo usiamo un cms tipo joomla tipo una piattaforma tipo moodle dice cosa facciamo no ce lo facciamo noi allora scegliamo un tema che è quello di cui abbiamo parlato la volta scorsa sostanzialmente dice ci sono i css già fatti me li scarico così non perdo tempo quindi scegliamo un tema un tema che deve essere chiaramente adatto al prodotto che noi stiamo trattando e al target del pubblico a cui è rivolto il sito perché non potete se il target di ricevimento di usufrutto di come si dice di uso di questo sito è un target per esempio anziano non ci andate a mettere immagini bestiali motociclette cose perché tanto se sono anziani per quando ci sono anziani che sono più giovani dei giovani comunque deve essere un tema o una grafica che rispecchi in modo particolare le esigenze di chi usa il sito anche se a voi magari piace un po' meno una volta fatto questo bisogna progettare la profilazione degli utenti nel caso ci siano utenti con ruoli diversi e alla fine proprio ma questo deve essere fatto alla fine il riferimento alle lingue straniere che vi può servire perché se realizzate una pagina in inglese vi può servire anche questo per levarvi davanti l'inglese anche per questo lo ha inserito il fatto delle lingue straniere ci siamo fino a qua tutto questo può far parte di quel discorso iniziale prima di iniziare a entrare in profondità nel nostro database infatti una volta affrontati tutte queste cose di cui abbiamo parlato prima che possono essere l'introduzione al vostro discorso incominciate a entrare nei dettagli del database dice per poter sviluppare questo mio sito io ho pensato di utilizzare un database relazionale perché gerarchico e reticolare ormai sono superati perché avevano delle cose che non andavano bene la programmazione ad oggetti del database ancora è in fase di progettazione e di sviluppo di fatto è così per cui non ci siamo addentrati in questa demarchica in questo momento quello che noi abbiamo studiato è il database di tipo relazionale i linguaggi che abbiamo utilizzato per gestire questo database sono il DLL che ci è servito per definire i dati il DML e le SQL per fare fuori le query e abbiamo utilizzato ID SQL oppure abbiamo utilizzato MariaDB oppure abbiamo utilizzato qualunque altra cosa questo lo sapete voi per quanto riguarda la gestione del database all'interno del nostro sito che è stato realizzato graficamente con l'HTML e l'uso dei CSS abbiamo inserito i comandi del database con istruzioni in PHP se avete fatto JavaScript ci mettete anche JavaScript se avete fatto chiamate in Jax ce lo mettete io non lo so se le avete fatte queste cose in perché noi proprio noi non ci siamo arrivati a farlo però non so se le avete fatte in DPS le avete fatte chiamate Ajax c'è professore ciao prof io ti avevo salutato prima però no avevo le cuffie tolte il microfono chiuso perché ero al telefono con Maria Proietto è questo com'è professore come va ma quasi stavo facendo vedere ragazzi ste slide che gli ho mandato gliele ho mandate stavo ti stavo seguendo si si ti stavo seguendo continuo? si certo assolutamente tu stavi dicendo con DPS cosa stavo dicendo se hanno fatto JavaScript chiamate Ajax se hanno fatto jQuery io non lo so cosa hanno fatto in DPS no jQuery in DPS non abbiamo fatto noi abbiamo fatto i socket con Python e quindi non c'entra niente comunque no con questo qua no vabbè e allora i ragazzi diranno che hanno interagito hanno fatto interagire il database con il sito utilizzando PHP e basta e dopo di che non so se avete pensato a fare una codifica dei dati in XML in JSON se lo avete fatto ce lo mettete XML l'abbiamo fatto XML l'abbiamo fatto con loro non l'ho fatto con voi XML sì sì però se li utilizzate abbiamo fatto in DPS la prima parte dell'anno forse eh sì perché di solito è la prima cosa che si fa giusto di solito la prima parte dell'anno quella ve la potete giocare se ritenete il caso che poi quella là sarebbe se vi ricordate la codifica di un file tra virgolette di testo fatto con XML che è uno standard no poi giustamente come dice la professoressa ci possono essere anche JSON CSV ma insomma la standardizzazione di un file di testo attraverso una di queste tra virgolette linguaggi barra opportunità che uno può avere quindi basta che voi dite se qualcuno vi dovesse chiedere ma la codifica di dati quindi di file di testo come può avvenire potete benissimo anche fare riferimento a XML che è uno standard tra altre cose uno tra quelli più diffusi è insomma prendere quello come esempio siete a posto infatti oppure glissate se non ve la sentite quando non siete sicuri di una cosa è meglio neanche accennarne perché se qualcuno poi va ad approfondire o inadvertitamente a noi ci può scappare una domanda che va ad approfondire se voi non ne siete sicuri non accennatene ad alcuni argomenti ok subito dopo dovreste iniziare ad entrare ancora più nel dettaglio e allora potete dire io per progettare questo database cosa ho fatto ho raccolto tutti i dati li ho divisi nelle varie entità ho creato quindi delle entità e ho trasformato gli elementi che avevo trovato prima cioè i dati in attributi delle tabelle ho deciso che tabelle dovevo fare ho deciso i dati ho stabilito che quella era la mia chiave primaria ho definito le relazioni ho fatto il diagramma R insomma tutte attraversate a una a uno tutte le varie fasi che in effetti voi avete studiato anche se tra una fase e l'altra dello studio sono passate purtroppo settimane fino ad arrivare al prodotto finito del database che va implementato e testato per trovare eventuali errori ma queste sono tutte cose che voi dovreste sapere abbastanza bene sulle quali non dovreste avere nessun problema cioè io ho cercato anche di restare ferma su quello che avete fatto voi senza approfondire ulteriormente giusto prof? assolutamente vi potete anche agganciare in merito a questo penso che con con GPOE avete fatto il ciclo di vita di un prodotto no? perfetto è un software è un software il prodotto nel nostro caso è il software se voi vi agganciate a questo discorso qua se vi volete insomma imbrodare un pochettino nel senso positivo della cosa potete anche andare a a dire che questo in linea di massima è tutta la procedura è divisa per fasi di quello che è il la realizzazione di un di un database ma infatti prima che tu entrassi io le prime slide erano proprio per questo infatti io allora ho fatto proprio espresso il riferimento a gestione progetto gli ho detto a che fare con gestione progetto però ero proprio nelle prime diapositive dove parla proprio dell'inizio del ciclo della vita del prodotto vedi? questa cosa qua dico gliela dite prima gliela dite dopo cioè in quanto siete in questa fase qua in cui dite e specificate proprio perché questo qua se vedete la professoressa vi ha fatto proprio un un algoritmo perché questo è quindi con tutta la successione delle fasi per andare a realizzare al meglio un database quindi il prodotto che uno vuole andare a fare e potete ad esempio aggiungere che se poi tutto questo lavoro si volesse certificarlo con la certificazione ISO-IEC 12207 del 2008 per avere quindi il bollino di qualità a tutta questa documentazione cioè tutta questa questa è una delle fasi della progettazione del ciclo di vita di un software in cui l'aspetto fondamentale che avete visto in GPOI che cos'è quello che qualsiasi fase deve essere documentata nel dettaglio nella maniera più diciamo particolareggiata possibile e non fatto così a caso ma in base ai dettami cioè in base alle regole che sono imposte dalla norma ISO-IEC ok quindi questa è una cosa che potete diciamo aggiungere perché come vi ho detto anche nelle altre lezioni ricordatevi all'orale quando voi fate quando voi fate dei riferimenti ad altre materie anche se non sono presenti lì cioè chi vi ascolta voi vi fate capire che siete le persone che mazziate riuscite a fare collegamenti tra quello che di cui si sta parlando anche con delle cose diverse da quello che nel dettaglio si sta parlando ricordatevi che fate sempre non una bella una ottima figura ok è questo andiamo avanti fase 2 della progettazione la normalizzazione cioè andare passare dallo schema R a uno schema concettuale che viene normalizzato attraverso le varie fasi che voi conoscete fino a quando si arriva ad una progettazione fisica del database cioè stabilire i supporti su cui deve essere memorizzato e dare le specifiche si chiamano data element le specifiche degli attributi cioè il tipo di dato come l'indicizzazione quali sono gli altri parametri cioè concludere la fase di progettazione del database una volta che avete messo appunto il database e lo avete testato con id sql lo avete testato con bhpmyadmin con chi due capoliti si passa alla progettazione del sito web che potrebbe anche avvenire in contemporanea come si fa si imposta la struttura del sito cioè desidero che il mio sito abbia una home dalla quale attraverso magari dei menu o delle link fatte con delle immagini con delle hot word quello che volete cliccandoci sopra si va in una pagina e da quella pagina alle sottopaggine si sceglie un tema per il layout si struttura si struttura la pagina all'interno di quel tema con leader il footer le barre se ci sono le barre il corpo centrale se dovete metterci dei widget insomma proprio la struttura fisica della pagina prevedere se all'interno del sito ci volete dei moduli aggiuntivi tipo le mail perché non in tutti i posti tu hai la possibilità di mandare delle mail se avete l'intenzione di aggiungere una pagina per dei commenti per esempio oppure per il controllo degli accessi prevedere tutti questi moduli aggiuntivi che devono fare parte del sito dopodiché si implementa il sito così fatto possibilmente solo a livello grafico e andare a inserire a quel punto una volta che il sito graficamente funziona andare a inglobare quegli spazi che ci servono per la gestione del database per ultimo quando il sito funziona si prevede l'accesso ai ruoli e al tipo di accesso cioè la profilazione degli utenti praticamente in questa pagina io ho messo una struttura che ho preso da google sinceramente dove si fa vedere per esempio uno schema di una pagina potrebbe essere questa no? questa è il leader il footer qui ci possono essere i vari gadget il menu può essere fatto nella barra di sopra piuttosto che in quella laterale qui ci potrebbe essere uno spazio ai commenti alla ricerca quello che volete voi questa è una ipotesi ok? di struttura poi ce ne sono tante altre e questi sono degli esempi su come potrebbe essere strutturato il vostro sito andiamo da un semplice sito che magari è di tipo statico che vede una home page con poche pagine sotto con poca possibilità di interagire se non per il modulo dei contatti nel caso in cui vogliate inserire per esempio un form per farvi scrivere ma vedete è un sito fermo cioè dove siamo non cambia mai la missione di un'azienda non cambia mai i servizi che offrono possono cambiare difficilmente quindi questo è proprio il prototipo di un sito si chiama vetrina che solitamente è statico dopodiché potete anche prevedere un sito di questo tipo questo è un catalogo con una home page al solito ci sono dei moduli che non cambiano mai chi siamo dove siamo per contattarci servizi questi sono comuni a tutti i siti però qui c'è una sezione relativa a un catalogo all'interno del quale si può avere accesso al database catalogo che si può dividere in sottopagine le pagine in sottopagine ancora fino ad arrivare al prodotto finito per esempio dal catalogo generale io posso tirare fuori gli articoli per parrucchieri dagli articoli per parrucchieri io posso tirare fuori gli articoli per il colore per esempio gli articoli per la piega gli articoli per l'asciugatura e all'interno di ogni categoria puoi andare ancora a dire il colore A4 il colore B5 e così via parlo di colore perché i film ne facciamo chissù oppure addirittura progettare progettare un sito dell'e-commerce che come vedete ha la stessa struttura di quello del catalogo però ha qui in più la sezione che riguarda proprio il carrello elettronico con l'aggiunta del carrello elettronico che vi permette di gestire i pagamenti che si accede che dal prodotto si va al carrello ma dal carrello poi si può ritornare al prodotto e così via l'ultima slide che vi ho proposto era quello in cui c'erano delle regole da seguire per far sì che il sito sia vincente cioè che possa avere buon successo perché non tutti i siti possono avere lo stesso riscontro se sono organizzati in modo diverso per esempio intanto deve essere navigabile facilmente e deve essere chiaro soprattutto i nomi a livello di menu deve essere chiaro e molto semplice se un menu si chiama bacheca è chiaro che nella bacheca ci devono essere dei messaggi se io in una pagina ci voglio inserire vendita delle mascherine con filtro le devo chiamare mascherine con filtro non la posso scrivere in questa pagina voi troverete le mascherine perché la gente si si dia a leggere i siti più efficienti sono quelli che hanno poche scritte ma molto chiare usate pochi colori non fate colori sgargianti perché danno fastidio agli occhi il testo è sempre meglio scriverlo sul fondo bianco col testo nero evitate di usare lo sfondo nero o con colori molto forti perché per caricarli in memoria sono più pesanti per cui il sito risulta rallentato evitare scritte che passano evitare video evitare audio cioè metterli soli ed esclusivamente se servono ad illustrare meglio quello che fate chiaramente se un sito per esempio quello che vuole fare Andrea è ovvio che ci possa essere la fotografia del prodotto potrebbe anche starci un video per far vedere come si usa sta bene in quel caso ma in altri casi non lo fate per esempio per il sito di Enea l'illustrazione di magari di un libro la copertina o un breve filmato nel caso in cui fosse per esempio un romanzo che è stato trasferito a film far vedere magari il trailer del film allora in quel caso potrebbe starci altrimenti non ce li mettete perché rendono tutto più pesante occhio a quando prendete immagini o testi da internet perché sono coperti da copyright e ci sono alcune immagini o alcuni filmati o alcune cose che voi potete usare se dite da dove li avete presi allora in quel caso il copyright non lo non andate contro la normativa del copyright cioè se Enea in particolare prende una serie di che vi posso dire di dispense di italiano che sono state scritte dal professore X lui deve dire che mette a disposizione queste cose che sono state tratte dal sito del professore o meglio ancora se si può contattare quella persona e chiedergli il permesso di pubblicarle è un bene e questo ve lo dico per esperienza vissuta perché nel sito che io gestisco della mia compagnia teatrale c'è una sezione dedicata ai copioni io ho cercato questi copioni o gli autori dei copioni da internet e li ho messi nel sito qualcuno sono riuscita a contattarlo personalmente telefonando e dirgli sto facendo questa cosa mi dà il permesso di inserire il titolo del suo copione oppure il suo copione e mi hanno detto sì qualcuno non ci ho pensato proprio a contattarlo ci ho messo dentro il copione e basta eppure essendo una forma di pubblicità perché tutto sommato io ci scrivo che il copione Pingo Pallino è di tizio per cui una compagnia teatrale se lo può scaricare riprodurlo sul palcoscenico e quindi pagare la CIA quindi per l'autore è solo un bene ci sono stati alcuni autori di copioni che mi hanno telefonato e mi hanno detto lei come si è permessa di mettere il mio romanzo nel suo sito il mio copione nel suo sito lo tolga e io l'ho dovuto togliere quindi ve lo dico per esperienza ma per loro è pubblicità e vabbè qualcuno non vuole questa pubblicità quindi occhio perché ci sono quelli che lo fanno con una telefonata e ti dicono toglietelo altri invece che vi denunciano direttamente dopodiché un altro passo e l'ultimo passo ma non il meno importante è quello di pubblicizzare il vostro sito possibilmente mettendo all'interno del vostro sito pubblicità di altri per esempio Enea che vuole fare una raccolta di testi utili per lo studio può fare riferimento che ne so a studenti punto it o a scuolanet pare che c'è un sito che si chiama scuolanet dove fanno lo stesso anche loro queste cose e possibilmente poi il sito a cui lui fa riferimento gli mettono all'interno del loro sito un richiamo anche a lui oppure Scudo che vuole mettere il fatto delle mascherine può fare riferimento per esempio all'organismo di sanità che è nato insomma cercare di legarsi il più possibile a altri siti che trattano i vostri stessi argomenti in modo che a fare una mano lava l'altra cioè io pubblicizzo tetto pubblicizzi me e questo è un modo per far circolare più velocemente i vostri siti in tutto questo tra un minuto abbiamo lezioni allora e comunque no io ho finito di farvi vedere queste perché ve le avevo mandate ma era giusto che vi dessi quantomeno una spiegazione e un perché di tutto questo quindi non vuole essere altro che è una traccia su come potete impostare quello che è la presentazione del vostro prodotto visto che non si è concordato ma suppongo che tutto parta dalla presentazione di un progetto e come vedete qua ci entra informatica ci entra dps ci entra gestione progetto ci può rientrare l'inglese se prevedete una pagina in inglese ci può rientrare qualunque cosa qualunque cosa ci siamo? finora le cose che ho visto andavano bene come bozza chiaramente le dovete affinare e pulire e soprattutto rendervi sicuri di quello che dite visto che sarà una cosa orale ci siamo? sì domande? no non ho capito tutto io almeno liberi poi di seguirlo meno se voi pensate di impostarlo in un altro modo fate paure questo poteva essere una linea guida perché vi ho visto che eravate molto confusi e non sapevate da dove cominciare seguendo questo penso che abbiate una scaletta su cosa fare e su come farlo che ne dite? professore che ne dici tu? sì va bene la bc è la cassetta degli attrezzi dell'argomento e dell'informatico in generale quindi va bene una cosa che vi raccomando è evitate di scrivere cose particolari specialmente se vi riferite a questo momento non dico di non esprimere la vostra idea su quello che fate o sul momento che stiamo vivendo però evitate di di entrare a fondo in problemi che hanno a che fare con la politica perché non sapete se chi c'è dall'altro lato condivido meno le vostre idee e potreste anche urtare se c'è qualcuno particolare non sappiamo chi viene come presidente di commissione supponiamo che voi affermate che determinate idee sono completamente sbagliate per questo questo e quest'altro e possibilmente invece il presidente della commissione è di tutt'altro avviso magari vi mettete inutilmente in urto con lui per stupidaggini e non è il caso quindi è giusto che voi diciate quello che pensiate però non esponetevi più di tanto purtroppo in queste cose bisogna giocare anche d'astuzia perché mentre noi ci conosciamo o addirittura ci sono professori che vi conoscono dal primo vi conoscono bene e anche se ci sono divergenze di opinioni sanno come parlare con voi chi non lo è chi non vi conosce bene può anche avercelo a male o prenderselo a male o pensare vabbè ma questo è cretino e farsi un preconcetto quindi è meglio evitare questo ok ve lo dico proprio per esperienza vissuta di esami credo che il professore sia concorde con questo perché non è facile fino all'anno scorso è successo che un ragazzo si è messo in urto con quelli della commissione perché ha affermato delle idee politiche tutte sue nessuno vieta che lui possa pensare a determinate cose però il presidente della commissione stava una bocciando quindi occhio a quello che dite perché succede sempre specialmente quando si è fanatici di determinate idee politiche si affermano con forza e convinzione è giusto che si faccia però evitate in questo momento perché è a discapito vostro va bene ci vediamo domani voi vedete domani noi ci vediamo martedì invece no? sì noi ci vediamo vi ricordo sempre che noi siamo a vostra disponibilità donna grazie a tutti